Siamo sul set dell'Ottavo Scudetto, il nuovo cortometraggio prodotto da Genoma Film di Paolo Rossi, di cui è regista Emilio Marrese. Emilio, raccontaci di che cosa parla l'Ottavo Scudetto, qualcosa si intuisce, ma dove siamo e in che periodo? Siamo nel 1945, quando Leandro Arpinati ricostruisce tutta la vicenda. Ci siamo immaginati che fosse lui l'unico a sapere la verità su quello Scudetto del 1927. Allora era il presidente della Federcalcio, era il Podestà di Bologna e decise di non assegnarlo al Bologna perché era la sua squadra del cuore, era la squadra della sua città e quindi pensò che togliendolo al Torino per un illecito, visto che c'erano state le prove nel Tribunale Penale, che il Torino avesse cercato di comprare il giocatore della Juventus alle mandi e bastava la tentata corruzione, come sappiamo, per non assegnare un titolo sportivo, non lo assegnò al Torino ma decise di non darlo al Bologna e quindi abbiamo ricostruito tutta quella vicenda in base alla documentazione storica esistente aggiungendo questa parte di fiction, cioè il racconto di Arpinati in prima persona ormai nel 1945 a poche ore da quella che sarebbe stata poi la sua esecuzione. Abbiamo girato nella villa di Malacappa dove Arpinati veramente ha vissuto e abbiamo pensato che fosse un modo per restituire un po' di verità. Per quanto mi riguarda quello scudetto sta bene così dov'è. È giusto che non sia stato assegnato probabilmente, ma non è neanche giusto che lo chieda il Torino perché l'illecito è stato provato in un tribunale penale e non sportivo e quindi penso che sia saggio lasciare le cose come stanno o se proprio si deve tornare indietro allora darlo al Bologna, certo non al Torino. Una domanda, prima di Arocca delle Camminate e adesso ti racconto una storia. Credo che Emilio Marese abbia fatto un gran bel lavoro di scrittura, noi come Genoma Films speriamo di aver fatto un buon lavoro produttivo, gli attori sono Orfeo Orlando, Luca Baccolini, Paolo Rossi Pisu, insomma abbiamo un cast di tutto rispetto. Era anche molto attento al look Arpinati. Arpinati aveva una testa di capelli molto nera e io mi sono dovuto tingere i capelli, adesso mi sono catapultato, finite le riprese, a rendermi un po' più presentabile, anche se il nero ancora per qualche settimana rimarrà. 4M take 3